Allora facciamo una cosa un po' più sweet perché tra qui a due ore abbiamo ascoltato 500 shuffle, voi tutti lo sapete Sono molto contenta di essere stata invitata qui di stasera con gli amici di Italian Plus River Cantichieremo, suoneremo un po' ma preparate i vostri strumenti e le vostre uvole perché è una genna e corpiamoci Questa è la sala di sassi, per cui dovete cantare anche già da lì Noi qua, from Chicago to LA Oh, in 2000, in 2000, in 2000 miles all the way Ci senti Piano D Sociale Soup Miancила Piano D있는 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione